A due mesi di distanza dall'appuntamento di Parigi di COP21 sul cambiamento climatico, che deve essere per tutti noi un appuntamento straordinario e vincolante, dobbiamo essere consapevoli che non siamo ancora arrivati a poter affrontare l'appuntamento di Parigi con tranquillità, avendo alle spalle già raggiunti gli obiettivi che sono necessari per contenere al di sotto dei due gradi l'innalzamento della temperatura globale come è negli obiettivi di questo incontro. C'è ancora un pezzo di strada da fare per passare dalla logica di Chioto, che come ricorderete riguardava solo un gruppo di Paesi, a una logica che impegni su questa grande sfida globale l'insieme della comunità internazionale, certo non mettendo sullo stesso piano Paesi che hanno gradi di sviluppo e anzianità di sviluppo diverse, ma coinvolgendo tutti i Paesi in alcuni obiettivi fondamentali.